Oggi andrò a trovare tutte le scheme di StumbleGuys in un solo video Scopriremo quanto tempo ci vorrà ma soprattutto quanti soldi spenderò per completare un intero account di StumbleGuys in un solo video Questo è l'account che andremo a usare il player 1 al WoboFuo Proprio lui, non abbiamo nessuna scheme, non posso barare, abbiamo solamente queste due Ho appena aperto l'account e dovete sapere che le skin sono 216 di cui 4 speciali Che ovviamente saranno quelle che mi faranno spendere più soldi che sono queste 4 Abbiamo solamente 5 gemme quindi apriamo il negozio e iniziamo a spendere un po' di soldi Prima scioppata da 3,99€ con... come rifiutato? Ah no ok, acquisto effettuato correttamente, c'era scritto rifiutato 1405 gemme abbiamo appena speso 3,99€ ma quasi va avanti Anche il pacchetto viola l'abbiamo preso e siamo già a un po' di gemme e a un po' di StumbleCoins Oh mio dio, skin speciale garantita con i giri fortunati, questa offerta costa 50€ Durante il video andremo ad aprire questa offerta che ci garantisce una speciale Ma ora apriamoci le prime skin Io partirò cercando di completare prima quelle normali, poi passeremo a quelle rare e poi a quelle speciali Quindi questa è la nostra prima skin, skin del pulcino Ok, ce ne mancano solamente 215 La ruota gira, la ruota gira, la ruota gira Mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale Perché regalerò questo account, se lo completo, a una persona che lascia mi piace e si iscrive al canale Ma soprattutto che mi tagga su Instagram Taggatemi facendo uno screen in cui avete lasciato mi piace e vi siete iscritti al canale E io regalerò un account a uno di voi Adesso abbiamo trovato le nostre prime 10 skin Ottimo, tutte nuove Mentre io mi apro queste ruote qui Voglio fare una videochiamata a un mio amico e chiedergli secondo lui quanti soldi spenderò per trovarle tutte Allora, oh, prima leggendaria, fermi Ok, vediamo se ci risponde Vediamo un attimo se ci risponde Ho avviato la videochiamata Se non mi risponde nessuno mi arrabbio, ve lo dico, eh Allora, Joe, io in questo momento sto shoppando, come sempre, su StumbleGuys, da come vedi E sto facendo un video in cui trovo tutte quante le skin del gioco in un solo video Oh cavolo, buona fortuna, buona fortuna, sei un pazzo, come al solito Ah, le skin sono 216 e voglio che fai un pronostico e voglio che cerchi di indovinare quanti soldi spenderò per trovare tutte le 216 skin E cavolo, se le devi trovare tutte in questo video, almeno 2400, 2600 euro se ne vanno, almeno Serio? Per me sì, per me è sui 2500, dai, la butto lì, 2500, sì Ok, questa cosa non l'avevo calcolata, continuo a shoppare Secondo voi spenderò davvero 2500 euro? Vabbè, comunque qua bisogna iniziare ad andare un po' più veloci perché se no non finiremo mai Quindi mi prendo il mio pacco di biscotti e inizio a, tipo, aprire ruote all'infinito senza mai fermarmi Ok, abbiamo già consumato tutto quanto, io voglio shopparmi sta mega offerta da 50 euro Ma sono, tipo, curiosissimo di vedere come mi dà la skin speciale Acquisto confermato Vediamo se ci dà la speciale così Non ho mai shoppato quest'offerta Non c'ho la speciale What? Aspetta, forse se shoppo un giro di ruota mi dà la speciale al 100% garantita Vediamo Vediamo C'è la speciale Oh mio Dio Oh, prima speciale sbloccata Inferno dragon, let's go Let's go, ma questa cosa è fighissima Non so perché sto esultando visto che era garantita al 100% la skin speciale Scusate un attimo ma credo di aver trovato il modo per crackare il sistema Ho shoppato pure quest'offerta che adesso, vabbè, mi darà 5 skin rare Ma credo di aver scoperto una cosa che prima non sapevo 5 skin, anzi no Ottimo 4 skin rare e una epica Ok, tutte e 5 le skin nuove Beh, oh mio Dio, oh mio Dio Ma così sarà molto più facile trovare le skin speciali C'ho un'altra skin speciale garantita con 49,99€ Ok, questa dopo ce la andiamo a shoppare Ci metteremo meno di quello che penso Ma spenderemo molto più di quello che penso Vai, shoppiamo altri 20€ di gemme che ci servono In breve sto cercando di completare un intero account di StumbleGuys in un solo video 216 skin, ok? Ok Cioè io in questo momento sto girando la ruota Cioè tipo all'infinito Non smetto mai di girare le ruote da più di mezz'ora Prova a indovinare quanti soldi spenderò per completarlo tutto, comprese le speciali, eh? Ok, eh... 500 almeno Ok, va bene Te lo farò sapere dopo Adesso sono ancora a 85€ Quindi ancora è easy la situazione Ho trovato una leggendaria in una ruota rara Ottimo, vabbè Comunque io intanto qua continuo a mangiare Lollopollo mi ha detto 500 Gio mi ha detto 2000 C'è una bella differenza tra 500 e 2000 Spero abbia ragione Lollo Voi avete mai fatto una partita a StumbleGuys mentre spacchettate su StumbleGuys? Beh, io lo sto facendo in questo esatto momento Sì, esatto Sto giocando dal telefono a StumbleGuys Questa cosa è epica Sembro tipo un fan sfegatato di questo gioco in questo modo Non mi sono nemmeno qualificato Non ci credo È il momento di tornare a spendere un po' di soldi Mi era mancato 49,99€ Ok Acquisto completato StumbleGuys StumbleCoins StumbleQualsiasi cosa Attenzione Sto registrando questo video Non perché sono un pazzo e voglio sprecare i miei soldi Ma solamente per creare questo contenuto Che tutte le persone su YouTube possono vedere Se non stessi facendo questo video Non spenderei mai tutti questi soldi in un videogioco Ok? Quindi mi raccomando State attenti a come usate i vostri soldi Scioppatina per uno Vediamo quale skin speciale ci capita Sono troppo gasato Sono troppo gasato Attenzione Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa? Perché non mi è uscita la speciale? Tu scusate ma perché non mi è uscita la speciale? Io sono una persona stupida Che non legge mai quello che c'è scritto sotto Probabilmente avrei dovuto fare qualcos'altro Per trovare una skin speciale E io invece non l'ho fatto Forse nel giro gratis Vi prego ditemi dove si trova quella skin speciale Vi supplico Non è nemmeno qui Sto guardando anche il mio account ma niente C'è solo il drago infernale di prima Io continuo a shoppare offerte Tipo questa qui Perché è l'unico modo per trovare Una Delle skin nuove Cioè in questo momento Ho tutte skin doppioni Quando shoppo Quindi questo è il modo più veloce Per trovare skin nuove Perché da quello che vedo Quando io shoppo le offerte Mi escono comunque i doppioni Ok sono fregato Cioè raga guardate Skin speciale garantita Con i giri fortunati Perché io prima non ho trovato la speciale Non capisco Riproviamoci Se adesso io shoppo un giro Della ruota fortunato Mi deve uscire una skin speciale Perché la skin speciale È garantita Corretto? No No Mi stanno truffando O cosa? Vedete Questo è quello che vorrei sempre io 10 skin nuove di zecca Questo Allora vi dico una cosa Non mi piace la situazione Siamo quasi a un'ora di rec No Siamo a 40 minuti E Cioè io ho trovato 116 skin Quante Cioè mi mancano infinite skin comuni Verdi Blu Non capisco perché io non le riesca a trovare Questa situazione Non mi piace affatto Soprattutto ora che ho scoperto Che se shoppo l'offerta Con la skin speciale In realtà non trovo la skin speciale Allora è il tuo momento Robby Mi devi dire Anzi devi fare Devi usare un po' la matematica Ecco Matematica Ti sei sicuro? Eh sì Perché devi indovinare Quanti soldi Spenderò Devo indovinare quanti soldi spenderai Ma puoi prendere le offerte? Sì posso prendere le offerte Ok Allora Sono 2600 stumble points Va a 40 euro Anzi è 49,99 Quindi devi prendere almeno Secondo me Almeno 10.000 stumble points Quindi direi almeno 200 euro Matti Ok va bene Te lo farò sapere dopo Ma visto che ci sei Ho una domanda per te Ma perché io ho shoppato l'offerta Quella Con la skin speciale Ma non ho trovato la skin speciale Eh questa cosa È un mistero dell'umanità Uh No 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 non è vero No non è vero No no non è vero No 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 Non è vero 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 Vi prego ditemi che questo è uno scherzo Ditemi che questo è uno scherzo No Ho trovato una speciale Ma è un doppione Ho trovato l'inferno dragon Lo sto impazzendo Io non credevo fosse così difficile Una cosa del genere Siamo sommando quest'ultima skin Di babbo natale A 127 skin Cioè praticamente Siamo a metà Io sono seduto in questa scrivania da più di un'ora Quindi adesso ciò che farò Sarà continuare a shoppare Ma vivendo la mia vita perché non posso stare qui Quindi niente io mi porterò Il tablet in giro E continueremo a shoppare Non so come altro fare se no Ho continuato a shoppare per tutto Il giorno Ma soprattutto in qualsiasi posto Senza mai fermarmi Sono passate più Di 24 ore Da quando ho iniziato a shoppare Ed eccoci qui Al momento finale Sono esattamente a 215 skin Da come vedete le ho trovate tutte Mi manca solamente lei L'ultima skin leggendaria Che spero di trovare il prima possibile Perché siamo a 323 euro e 99 spesi Avete capito bene 323 euro per trovare Tutte le skin Di stumble guys Sarò stato fortunato? Non lo so Sarò stato sfortunato? Non lo so So solo che al momento Ho speso 323 euro In 24 ore Per trovare 215 skin Manca l'ultima Leggendaria Considerate Che ho trovato Tipo in totale Almeno 7 speciali Nel senso che ho trovato Le 4 speciali del gioco Più 3 doppioni Vi dico solo che credo Di aver trovato 3 volte di fila Il drago infernale Sì la situazione È questa Da non so quante ruote ormai Ogni volta che faccio un giro Trovo tutti i doppioni Cioè vedete 10 doppioni su 10 Ovviamente direi Abbiamo 12.000 stumble coins Spero che bastino Per trovare L'ultima leggendaria Del gioco Guardate Trovo speciali E non me ne frega Niente Assolutamente Niente Informazione interessante Una skin speciale Doppione Vale 700 stumble coins Ed è per questo Che sono tipo Ricchissimo Di stumble coins Eccolo No di uno Eccolo No di nuovo di uno Non ce la faccio più Sì No ragazzi Il gioco mi sta trollando Due volte di fila Due volte di fila Yeah Un'altra speciale Un'altra speciale Wow Sì 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 L'ho trovato L'ultima stupidissima skin È stata trovata Ho completato tutto L'account Guardate Fino alla fine Da adesso Non shopperò mai più Su stumble guys Prendetevi questo account Non lo voglio Taggatemi su instagram E ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti